Iponsonage è una tecnica di braccia a spalle, per cui quando si fanno le difese bojo, go, cho e yavara, bisogna tenere conto del bloccaggio in una fase positiva come leva, per me che sono ucchie che sto subendo la tecnica. Dopo si passa chiaramente dalla difesa go alla difesa yavara. Adesso noi inizieremo a vedere alcune particolari per bloccare le spalle. Iponsonage destro, quando mi attacca, io devo controllare questo braccio e la mia gana va avanti, la testa si gira dall'altra parte. Per cui il movimento è questo. Controllo, testa girata dalla parte fuori, destro e destra. Allora, rivediamo il movimento, questo lavoro, chiudo, qua, e se gira dall'altra parte. Da questa posizione, se non riesco a tenere la difesa go, giro la testa sulla gamba, che va dall'altra parte, intorno al mio guardia destro. Se ho destro col sinistro, destro col sinistro, da questa posizione, quando lui entra, la mano gira, la gamba va avanti, blocco e giro la testa dall'altra parte. Allora, questo lavoro, difesa go, da questa posizione, cedo sulla gamba e con l'altra parte. Grazie. Grazie. Grazie.